Studiare una mobilità sostenibile e rivedere il traffico per migliorare l'aria di Cremona. E' questo l'appello di Lega Ambiente al Comune, ribadito nell'ultima lettera, che è stata indirizzata dagli ambientalisti al sindaco Galimberti. Dopo il diniego, la possibilità di fermare il traffico su Via Giordano per consentire lo svolgimento della festa di quartiere. Una condanna allo smog e alle auto, secondo Lega Ambiente, che si sgancia dalla polemica legata alla festa del quartiere, pur ritenendo importante la finalità di rigenerazione urbana dell'iniziativa, per tornare a chiedere invece interventi mirati a ridurre lo smog legato al transito veicolare, soprattutto in vista della stagione autunnale e dell'incremento di emissioni nocive da sempre legato a un maggior uso delle auto dopo l'estate. Abbiamo preso spunto dal diniego di concedere Via Giordano per ribadire quello che ormai Lega Ambiente dice da anni, e cioè che una viabilità diversa è possibile ed è possibile anche a Cremona. Negare di chiudere per mezza giornata Via Giordano di per sé non ci interessa più di tanto, non volevamo far polemica, volevamo soltanto ribadire che non ci è piaciuta la risposta del capo dei vigili che ha detto che il ring non si ferma. Quindi vuol dire che saremo condannati per sempre a Cremona a questo tipo di mobilità. Si possono fare tante cose, innanzitutto una grande educazione in senso civico di tutti i cittadini a spingere ad utilizzare in una città piccola come Cremona altri mezzi per spostarsi, dalla bicicletta ad andare a piedi. Naturalmente la macchina è fondamentale, nessuno vuole obbligare nessuno a lasciarla a casa, però si può fare molto. Quello che noi diciamo è semplicemente questo, riorganizzare tutte le strade di Cremona in senso di sostenibilità ambientale. Noi le proposte le abbiamo fatte, naturalmente non spetta a noi studiare un piano diverso della mobilità, ci sono gli organi preposti. Io so che sia il Comune che gli assessori alla partita sono impegnati su questo argomento. Chiediamo solo maggiore coraggio e di fare abbastanza in fretta, visto che siamo in ottobre, tra un po' si riaccenderanno i riscaldamenti, quindi i problemi aumenteranno. Grazie a tutti.